Il buco nero, o meglio, l'ombra del buco nero. Io confesso che di fisica ci capivo poco e nulla, e anche di geografia astronomica, io ho fatto il liceo classico proprio appunto perché di materie scientifiche non capivo tantissimo, geografia astronomica ancora adesso mi domando che cosa fosse, però sono contento perché c'è un pezzo di Italia anche in questa scoperta eccezionale, perché leggo che per la prima volta è stato fotografato un buco nero, distante solo 55 milioni di anni luce, 55 milioni di anni luce, adesso in rete ovviamente sui social si è scatenata la caccia al buco nero, perché questo è un fior di buco nero, però sarà mica l'unico, voglio dire. Però c'è un pezzo di Italia, ringrazio l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Istituto Nazionale di Astrofisica che hanno partecipato, e il dottor Luciano Rezzolla, direttore dell'Istituto di Fisica Teorica di Francoforte, dimostrazione che gli italiani anche in questo campo non hanno niente da invidiare ad altri.